Dunque, possiamo partire, troppo forte il volume. Ok, sentite? Sì. Vediamo cosa facciamo in queste ultime tre lezioni qui in laboratorio. Dunque, oggi e domani proveremo a risolvere la simulazione d'esame fatta in laboratorio. Tanti di voi hanno già fatto il punto 1, quindi magari è un po' una ripetizione, però potete prendere spunto dalla mia soluzione e vedere dove magari potete fare meglio, più che meglio, far più veloce. Ok? Perché come abbiamo visto la volta scorsa, siete arrivati un po' stretti con i tempi. E poi domani vedremo la soluzione, una possibile soluzione del punto 2 della simulazione. Col professore domani invece, non so, forse avete da finire ancora una simulazione o una ricorsione. E poi, mercoledì, in laboratorio, facciamo la seconda, chiamiamo la simulazione d'esame con l'altro database, tema d'esame che sarà, cioè simulazione d'esame che sarà ricorsiva questa volta. Va bene, partiamo brevemente guardando un attimo il testo, come già detto probabilmente lo conoscete già. Innanzitutto partiamo dal dataset che è un dataset con una singola tabella che riporta oltre 300.000 eventi criminosi tra il 2014 e il 2017 nella città di Denver. Si intendeva costruire un'applicazione JavaFX dove l'utente potesse scegliere un anno tra quelli presenti nel DB e alla pressione del bottone Rette Cittadina occorreva creare un grafo in cui i vertici erano i sette distretti di Denver, modellati dal campo intero District ID e in particolare bisognava collegare i distretti da degli archi non orientati, il cui peso fosse la distanza media tra i centri geografici dei vari eventi criminosi in ogni distretto. Si poteva utilizzare la libreria Simple Latlong per calcolare le distanze e l'ultimo punto richiedeva per ciascuno dei sette distretti visualizzare l'elenco di tutti gli adiacenti ordinati in base alla distanza. Ovviamente qui per costruzione nel grafo tutti sono connessi a tutti. Va bene, partiamo. Diciamo che era abbastanza semplice perché non c'era una query complicata, c'erano alcuni passaggi in cui si poteva facilmente perdere tempo. Lasciatemi creare un nuovo branch soluzione al progetto base che avevo già caricato, quindi team, switch to new branch, soluzione. e partiamo. Vediamo un po' cosa offriva già il progetto base. Addirittura il modello era già settato per il controllore, va benissimo, non dobbiamo fare quella parte noiosissima. c'era già una classe modello che però era vuota. Allora partiamo subito con qualche ragionamento che secondo me vi farebbe risparmiare un po' di tempo. Prima cosa, quanti sono i vertici? Ci dobbiamo sempre fare questa domanda per vedere che strategia utilizzare. In questo caso il testo lo dice esplicitamente, ci sono sette vertici. Ora, sette è un numero veramente bassissimo, quindi direi che la classica strategia uno va benissimo. Aggiungo tutti i vertici, faccio un doppio ciclofor e connetto i due vertici con un arco facendo una query ogni volta al database. Quindi su questo siamo d'accordo. L'altra cosa su cui possiamo ragionare è che cosa è il grafo, che cosa, in particolare cosa sono i vertici. Ho visto che molti di voi hanno fatto una classe di stretto, giusto? In realtà, se leggiamo già bene il testo, non è che abbiamo molto bisogno di questa classe di stretto. Visto che i distretti sono modellati come un campo intero nel DB, nulla ci vieta di avere un grafo, 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 i cui vertici siano semplicemente degli interi. E qui già risparmiamo un po' di tempo perché non dobbiamo crearci la classe di stretto, non dobbiamo definire gli hash code e gli equals perché la classe intero di Java già ce li ha. E quindi secondo me qui è un buon trucchetto è utilizzare direttamente gli interi. Come per certi esercizi avevamo visto i vertici erano direttamente delle stringhe. Stessa cosa. È un grafo pesato. Default weighted edge. Grafo. Importiamo le varie classi. Eccoci qua. Dopodiché, utilizzando degli oggetti, degli interi come vertici, anche della mappa in sostanza non ne abbiamo molto bisogno. Avessimo avuto degli oggetti di stretto, allora sì che aveva senso avere una mappa in cui la chiave fosse l'id del distretto e il valore fosse l'oggetto distretto. Qui in realtà abbiamo solo degli interi, quindi va benissimo, basta una lista. Se vogliamo mantenere vero il pattern dell'identity map, dobbiamo solo avere l'accortezza di riempire questa lista all'inizio e poi utilizzare sempre lei quando abbiamo bisogno di distretti. Dopodiché in questo caso, anche creassimo dei nuovi oggetti, dei nuovi distretti, tutto funzionerebbe perché essendo la classe integer di Java siamo sicuri che le hash code equals funzionano bene e quindi in teoria non dovremmo avere problemi. Sicuramente come altro attributo della classe modello avremo anche un DAO che c'era già. Vediamo cosa aveva dentro. un metodo per ottenere tutte le righe delle tabelle. Anche qui questo metodo per il punto 1, come vedremo, potremmo anche non utilizzarlo. Per il punto 2 magari servirà, ma... Quindi definiamoci un riferimento al DAO. Lo importiamo. Perfetto. Adesso nel costruttore possiamo andarci a creare tutto quello che dobbiamo crearci. Quindi creiamo il DAO, facciamo la new. Creiamo magari già il grafo è un simple weighted graph di default no, scusate, di integer e default weighted edge dobbiamo anche dargli la classe dell'arco quindi default weighted edge punto class e ovviamente dobbiamo importare anche simple weighted graph Perfetto e basta altre cose da... Ah beh, possiamo farci dare no, non ancora non possiamo ancora farci dare i distretti perché se vi ricordate il testo chiede di selezionare un determinato anno giusto? Quindi potrebbero esserci dei distretti che ci sono nel 2014 ma non nel 2016 quindi a priori non possiamo farceli dare tutti solita cosa nel model ci sarà il classico metodo questa struttura potreste già scriverla ad occhi chiusi il classico metodo public void crea grafo in cui dobbiamo ovviamente ogni volta vedere se questo metodo riceverà o no dei parametri in questo caso sì perché abbiamo detto viene selezionato un anno anche qui possiamo usare la classe year o possiamo usare più semplicemente un intero per modellare l'anno è indifferente come vi trovate meglio quindi adesso qui sì che possiamo farci dare tutti i distretti per quel determinato anno e saranno i vertici del nostro del nostro grafo quindi dis.distretti uguale dao punto ovviamente non abbiamo ancora il metodo lo scrivo list all districts e me lo vado a fare implementare ovviamente qui ho scelto di far in questo modo il metodo dao mi ritorna la lista e io la vado a salvare qui nulla vieterebbe di fare anche in quest'altro modo far sì che quel metodo sia un void e io gli passo già la lista vuota e lui la riempie fa lo stesso lo vado a creare e qui addirittura non abbiamo neanche bisogno di provare prima sul client sql perché è davvero una query facilissima semplicemente string sql uguale select che cosa? allora sappiamo che dunque selezioniamo il database di undercrunch la tabella events il contenuto ecco qua abbiamo una lista di di eventi in cui ogni evento da qualche parte ha il district id dove sei? eccolo qua vedete una colonna in cui c'è l'id del distretto di dove è avvenuto il crimine ok per selezionare tutti i distretti semplicemente ci basta se riesco a zoomare non riesco più chissà che cosa ho fatto eccoci qua ora ho zoomato troppo eccoci qua ci basta selezionare district id il campo naturalmente con una distinct davanti per prenderne solo uno per volta from events abbiamo una clausola perché vogliamo dire che l'anno year di che cosa? il testo dice di guardare la colonna reported date benissimo la copio dove l'year di reported date è uguale al mio parametro questa è la query benissimo il solito try catch qui ovviamente vi conviene se volete velocizzare copiare o avere già magari in qualche file la struttura già fatta col try catch eccetera copiate incollate e modificate quello che vi serve copio da qua sopra ricopio da qua quindi ci facciamo dare la connessione creiamo il prepare statement se il caso e questa volta è il caso impostiamo il parametro è un anno quindi setint parametro 1 c'è solo quello ah qui abbiamo dimenticato di ricevere come parametro l'anno lo aggiungo e lo imposto ok poi ci andrà la lista di supporto che ritorneremo anni uguale new array list integer e dobbiamo eseguire la query e finché c'è un anno disponibile next no next aggiungo si scusate ovviamente non sono anni sono distretti aggiungo il mio distretto alla lista distretti.add res.getint distret id chiudo la connessione sempre ricordarsi di farlo ovviamente la chiudo prima di ritornare al risultato perché se faccio il contrario in realtà non la chiudo ritorno i distretti e questo null qua non serve più perfetto torniamo nel modello qui dobbiamo passargli l'anno ovviamente e possiamo già adesso aggiungere tutti i vertici quindi graphs punto add all vertices dove al grafo quali vertici i miei distretti dopodiché abbiamo detto strategia 1 semplicissima sempre uguale doppio ciclo for sui vertici integer v1 in this punto grafo punto vertex set ciclo 1 ciclo 2 for integer v2 in this punto grafo punto vertex set dobbiamo avere l'accortezza di controllare che i due vertici non siano gli stessi altrimenti andremo ad aggiungere dei loop quindi se not v1 punto equals v2 farò vedrò se devo aggiungere l'arco in questo caso sicuramente sì perché ci sono tutti gli archi e vedrò con che peso allora ho usato equals perché sto usando la classe integer di java non è un intero semplice solo il numero ma è la classe che grappa un intero e quindi dentro di sé ha definito il suo metodo equals se fate così tanti auguri ok non funziona perché sono degli oggetti anche se modellano un singolo numero va bene dopo di che essendo il grafo non orientato potrà capitare che io stia controllando v1 e v2 ma poi accadrà anche il caso in cui controllo v2 v1 giusto se l'arco c'è già è inutile andarlo aggiungere di nuovo perché non è orientato e sarà lo stesso quindi un controllo aggiuntivo che posso fare è if dis punto grafo punto get edge tra v1 e v2 è uguale a null se è uguale a null vuol dire che quell'arco non c'è ancora e lo posso aggiungere e in effetti lo aggiungerò attenzione questo è uno degli errori che ho visto più spesso capita a volte non so se in questo esercizio che voi aggiungiate un arco la edge in teoria vi ritorna il riferimento a quell'arco e voi dopo lo usiate per ad esempio impostare il peso cambiare il peso eccetera per un grafo non orientato quando fate add edge ma quell'arco c'era già per esempio perché siamo nel caso in cui controlliamo v2 v1 vi restituisce null ok e ovviamente se vi restituisce null e poi voi fate arco punto qualcosa null pointer exception quindi secondo me è sempre bene controllare che l'arco ci sia già oppure no e in base a quello fare la vostra logica perché ripeto la edge se l'arco c'è già vi restituisce null perfetto qui dobbiamo aggiungere sicuramente un arco con che peso e questo ha creato un po' di di problemi la distanza media tra i centri geografici dei distretti centri geografici intesi come il centro dei crimini se noi andiamo nel DB vediamo che ogni crimine ha una longitudine e una latitudine allora dato un insieme di latitudini e longitudini come farò mai a calcolare nel centro posso fare semplicemente la media va bene la media delle latitudini e la media delle longitudini il risultato è una latitudine media e una longitudine media che caratterizza il centro del distretto e poi utilizzerò quei due valori per calcolare la distanza dal punto medio di un altro distretto ok se nell'esame chiederà di fare un punto simile ora sapete come si calcola il centro quindi io suppongo di calcolare la latitudine media di V1 chiamiamola così latmedia V1 e la sua longitudine media stessa cosa faccio per V2 come lo faccio beh c'è un modo facilissimo la media la posso fare direttamente con una query no quindi suppongo che il DAO mi offra un metodo get latmedia a cui ovviamente dovrò passargli il distretto in questo caso V1 ops V1 e suppongo anche che il DAO abbia un metodo get long media V2 eh V1 sempre e poi ovviamente ripeterò i due metodi anche per V2 nulla vieta di fare un metodo solo eh perfetto magari li facciamo dopo supponiamo che funzionino terminiamo il il model adesso abbiamo eh due latitudini e due longitudini e per calcolare la distanza come suggerito nel testo possiamo utilizzare la libreria la libreria eh che era già linkata al progetto double distanza media uguale c'è una classe lat lng tool si trovava facilmente dalla documentazione che è un metodo distance a cui bisogna passare i due punti i due punti intesi come latitudine e longitudine messi insieme e un'unità di misura in questo caso chilometri quindi per il punto 1 mi vado a creare un new lat lng a cui ci passo latitudine e longitudine media di v1 faccio la stessa cosa andiamo a capo se riusciamo faccio la stessa cosa per il punto 2 quindi copio e cambio v1 in v2 e specifico anche l'unità di misura anche qui ci si poteva arrivare facilmente dalla documentazione length unit punto length unit punto chilometri dobbiamo importare latlong perfetto ok calcolata la distanza media aggiungo l'arco con quel peso lì quindi graphs punto add edge width vertices in cui posso specificare direttamente tutto il grafo ops dis punto grafo il nodo sorgente v1 il nodo destinazione v2 e il peso distanza media fine quando il doppio ciclo for è terminato posso stampare grafo creato e magari anche il numero di vertici e il numero di archi per vedere che è tutto quadri quindi numero di vertici dis punto grafo punto vertex set punto size e numero di archi allora andiamo ancora a farci questi due metodi nel DAO per ottenere la latitudine media e la longitudine media dato un modifico il nome distretto anche qui la query è semplicissima qui avremo una media AVG di che cosa del campo geo lat diamogli anche un nome as media from events qui in realtà dobbiamo anche passare l'anno di nuovo come parametro perché ovviamente vogliamo prendere tutti gli eventi di quel distretto va bene ma sempre in quell'anno considerato quindi qui dobbiamo aggiungere integer anno dove l'anno sarà uguale a questo anno and district id uguale secondo punto interrogativo ricopio questo poi lo vado a modificare creo la connessione il prepare statement questo rimane uguale perché al primo posto abbiamo sempre l'anno facciamo ancora una set int per il distretto che è a posizione 2 non avremo più una lista ovviamente e non ci sarà più un while perché calcolando una media la query restituirà un valore solo if res punto next speriamo ci sia ritorno res punto get double perché è una media media altrimenti ritorno null cioè se finisco qua vuol dire che non è entrato nella if e quindi non ha potuto calcolare una distanza media attenzione manca ancora una cosa vediamo se lo notate c'è un caso in cui lasciamo la connessione aperta perché se entriamo nella if cioè probabilmente la lasceremmo sempre aperta perché supponiamo che lì ci entri sempre se entra nella if fa subito la return e non chiude la connessione quindi consiglio pratico mettiamo prima di qualunque ritorno mettiamo una connection punto close così siamo sicuri che la chiudiamo quindi la metto qua e la metto qua il metodo get long media è identico quindi copio e cambio solo geo lon devo passarci ovviamente anche i parametri uguali l'anno e il distretto torniamo di là e c'è un errore perché qui dobbiamo specificargli anche sempre l'anno anno 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 e il grafo è creato facciamoci la classe test model c'è già perfetto scrivo direttamente qui va benissimo model m uguale new model m punto crea grafo anno 2015 proviamo lanciare ovviamente c'è un'eccezione non così almeno vedete anche se vi ritrovate in queste eccezioni quando trovate un'eccezione a non column vuol dire che semplicemente nella query avete sbagliato a scrivere il campo district id vediamo come si chiamava district id allora l'ho proprio sbagliato sedia di sé torniamo qui district district eccolo qua c'era una lettera di troppo qua invece era giusto riproviamo perfetto sette vertici ci sta c'erano tutti e 21 archi anche ci sta perché tutti sono collegati con tutti con un solo arco cioè non ce n'è andata il ritorno ma ce n'è uno solo quanto ci ho messo mezz'ora parlandoci sopra ah sì accendiamo le luci vediamo di nuovo devo staccarmi da qui ripeto mezz'ora parlandoci sopra ovviamente sono andato dritto perché avevo bene in mente come farlo però direi che in mezz'ora si fa soprattutto questo che in cui non c'era nessuna query nessuna query difficile tutto era collegato con tutto e quindi potevate subito andare alla soluzione ovviamente se iniziate a creare una classe di stretto l'ashcode l'equals eccetera quindi cose alla fine inutili certo che perdere un quarto d'ora è molto facile vediamo cosa chiedeva l'ultimo punto anche questo ha creato un po' di confusione per ciascuno dei sette distretti si stampi l'elenco degli adiacenti ordinata in base alla distanza crescente allora qui dovrebbe venirvi subito in mente che avete due informazioni da modellare contemporaneamente che sono il mio vicino e quanto è distante da me per come è fatto l'esercizio la soluzione non abbiamo da nessuna parte questa cosa cioè non c'è un il grafo non ce lo può dire ci può dire i vicini sì ma non con la loro distanza almeno non questa informazione unita insieme e non abbiamo da altre parti questa informazione quindi quando è così mi deve subito venire in mente ok mi serve una classe aggiuntiva che abbia due campi il mio vicino è quanto è distante da me così poi ordino le istanze di quella classe questa mi sembra la soluzione più rapida si può fare anche in altri modi ho visto anche tra di voi altre soluzioni ma secondo me è quasi sempre così quando l'ultimo punto vi chiede di ordinare i vicini secondo un certo criterio mi vado a creare subito una classe chiamiamola vicino in cui c'è il mio vicino e la sua distanza con un bel costruttore e i vari get resetter questi sono i get resetter constructor 26 eccolo qua va bene io suppongo che io mi conosco sono io e poi avrò una mia lista di vicini che in cui ogni oggetto di questa classe avrà il vicino e la distanza e quindi io qua nel model suppongo di avere un metodo public che mi restituisca una lista ordinata di vicino get vicini in cui in cui come parametro ricevo il distretto di cui voglio sapere i vicini ordinati e questo metodo lo richiamerò per tutti i vertici presenti nel grafo dal controllore quindi dato un distretto come prima cosa mi vado a prendere prendo un'informazione per volta quindi mi vado a prendere i vicini senza la distanza neighbors uguale graphs punto neighbor list of il grafo e il distretto presi i vicini integer li scorro e mi vado a costruire e qui il trucchetto una lista di vicino quindi me la creo vuota prima fuori list vicino vicini uguale new linked list di vicino qui mi vado a prendere vado ad aggiungere vicini punto add new vicino dove il vicino è dato da quello che sto scorrendo n e il peso lo vado a recuperare dal grafo this punto grafo punto get edge weight di che cosa l'arco che c'è tra me distretto e il vicino che sto scorrendo this punto grafo punto get edge io e n ora vado a capo così si vede meglio eccoci qua adesso però avendo costruito queste classi che hanno entrambe le informazioni il vicino con la sua distanza da me posso ordinare questa lista collections punto sort vicini ovviamente adesso mi darà un errore perché non ho implementato comparable nella classe quindi vado di qua nella classe vicino dico che implement implement comparable di vicino devo farmi generare il compare to e qui li ordiniamo secondo la distanza ma essendo la classe double di java posso usare this punto distanza punto compare to o punto get distanza posso fare così perché la distanza è un double e uso il compare to già implementato nella classe double di java punto virgola e poi ritorno vicini domande non sono poi tante righe di codice se vi viene in mente di creare quella classe lì aggiuntiva poi alla fine è molto facile direi che quando il testo richiede stampare l'elenco di tutti i vicini ordinati per qualcosa creo subito una classe di supporto allora già che ci siamo colleghiamo tutto il controller così poi iniziamo a ragionare già sulla simulazione tanto un po' di tempo ce l'abbiamo crimes controller partiamo dal dalla creazione del grafo il model ce l'abbiamo già quindi richiamiamo anzi no prima di creare il grafo dobbiamo recuperare l'input integer anno l'anno lo recupero dal box anno punto get value ovviamente poi dobbiamo riempirla questa tendina e facciamo subito il controllo dell'errore i fanno è uguale uguale a null stampiamo messaggio d'errore devi selezionare un anno e ritorniamo se tutto va a buon fine invece dis punto model punto crea grafo anno allora dicevamo la tendina dobbiamo riempirla quindi box anno sarà un combo box di interi perfetto e qui nel set model dis punto box anno punto add all no get items punto add all anche qui si è vero c'erano un po' di cose da fare e in effetti se perdete tempo era abbastanza lungo perché anche qui dobbiamo fare una query nel db per richiedere tutti gli anni possibili quindi dis punto model punto get anni non ce l'abbiamo ancora ma ce lo andremo a creare creo il model ovviamente non è un intero ma è una lista di interi semplicemente il model richiama il dao dis punto dao punto get anni anche qui non ce l'abbiamo ancora e lo vado a creare di nuovo una query molto semplice copio questa versione qui che aveva anche una lista al posto di district id sarà select distinct year di reported date from events ovviamente qui non specifichiamo l'anno perché li vogliamo ottenere non c'è più il parametro via questo diventa anni anni qui diamogli un nome as anno anno return anni vedete che facendo copia e incolla è veloce torno di qua nel controllore ottimo quando il grafo è creato allora posso utilizzare il metodo questo qui get vicini fatto su tutti i vertici del grafo quindi sicuramente mi servirà un metodo qui dal model che mi ritorni la lista di distretti e mi va bene perché ce l'ho già questa lista basta che faccio la return e quindi dal controller dico che per ogni distretto in this punto model punto get distretti vado a recuperarmi la mia lista di vicino this punto model punto get vicini che è distretto il distretto di importo e una volta che ho questa lista mi basta stamparla quindi txt result punto append text slash n diciamo vicini di distretto più di cioè ora ti elenco tutti i vicini del distretto di faccio un for sulla lista di vicini e stampo txt result punto append text slash n il vicino v punto get v e la sua distanza di uguale più v punto get distanza proviamo un po' andiamo sul main eccoci qua se non seleziono un anno mi stampo l'errore perfetto vedete che ci sono i vari anni seleziono 2015 clicco ricco rete cittadina e forse perfetto vicini di distretto 6 sono questi qua vicini di distretto 3 eccetera sono ordinati giusti richiedeva in ordine ascendente o discendente non mi ricordo vediamo un po' ordinati in base alla distanza crescente perfetto direi che ci siamo domande ci abbiamo messo 40 no 45 minuti ci rimane un'ora un quarto per la simulazione visto dove ripeto la simulazione conta più l'idea che il fatto che lanci perfettamente è in modo corretto allora direi che possiamo iniziare a ragionarci un po' su sicuramente non non lo finiremo ma lo finiamo domani vediamo il testo si permette all'utente di selezionare una specifica data giorno e mese dell'anno già considerato e si permette anche di inserire un numero n compreso tra 1 e 10 di agenti disponibili vogliamo valutare se questo numero n va bene oppure no per gestire tutti gli eventi criminosi in una simulazione si ipotizzi che la centrale di polizia di denver si trovi nel distretto a minore criminalità dell'anno in corso quindi dove ci sono stati meno eventi criminosi e che tutti gli agenti siano all'inizio in centrale poi si chiede di simulare tutti gli eventi criminosi e al verificarsi di un evento ovviamente questi eventi sono ordinati per la data la centrale sceglie un agente da mandare sul posto quale agente sceglie sceglie il più vicino all'evento criminoso ovviamente al primo evento saranno tutti vicini uguali perché sono tutti in centrale ne sceglierà uno a caso però poi via via potrebbe cambiare questa situazione ciascun agente libero si muove a una velocità di 60 km orari sui vari archi del grafo ovviamente il grafo abbiamo calcolato le distanze medie apposta per sapere quanto ci mette un agente dalla sua partenza ad arrivare al distretto d'arrivo considerando gli archi ok con la legge del moto uniforme il tempo necessario a gestire un evento cioè quando la gente arriva sul posto dipende dal tipo dell'evento e in particolare può essere con uguale probabilità di una o due ore per eventi del tipo all other crimes mentre il tempo necessario gestire qualunque altro tipo di crimine è di due ore una volta che l'evento è stato gestito la gente rimane lì non torna indietro ed è libero per eventualmente rispondere ad altre chiamate un evento si considera mal gestito se la gente arriva nel distretto dell'evento oltre 15 minuti dal suo orario dal suo orario non è che la gente non ci va ci va lo stesso ci sta lì sempre un'ora o due quello che è ma l'evento si considera mal gestito non so sì ok dove siamo pagina 2 il simulatore dovrà produrre il numero degli eventi mal gestiti e basta stampare il numero di eventi mal gestiti poi ovviamente nella simulazione faremo varie stampe vedremo bene l'evolversi delle cose allora per la simulazione due classi che sicuramente vanno create il simulatore e la classe evento attenzione c'era un po' di ambiguità con i nomi questa classe evento della simulazione ci va e non è questa event che c'era già cioè event modella un evento criminoso che però è un sotto insieme dei nostri eventi della simulazione quindi io mi creo una mia classe evento dove avremo il classico enum con il tipo di evento per la simulazione dunque partiamo partiamo da qui cercando di ragionare su che cosa ci serve quali sono i tipi di evento che dobbiamo modellare secondo voi vi ricordo che ogni cosa che scrivete nel simulatore c'è la possibilità che prendiate uno due tre quattro cinque punti in più quindi vale la pena di impostarlo quantomeno quindi il primo tipo di evento è sicuramente l'evento criminoso che sono modellati da questa classe qui perfetto quando e che cosa succederà durante un evento criminoso arriva un evento in centrale che cosa deve fare la centrale seleziona l'agente l'agente non un agente a casa ma l'agente più vicino ok io direi che addirittura qua dentro visto che dovendo selezionare l'agente più vicino andiamo a considerare le varie distanze potremmo già addirittura sapere a priori se l'evento sarà mal gestito oppure no ok controlla se l'evento è mal gestito vediamo se puoi farlo lì o farlo da un'altra parte altro evento la centrale ha scelto un agente e questo agente prima o poi arriverà sul posto no? l'agente dopo un certo tempo arriva dove c'è il crimine qui farà le sue cose non lo sappiamo quello che sappiamo è che a un certo punto la gente tornerà libero no? ovviamente quando la gente arriva sul posto ci sta un'ora o due e durante quell'ora o due non può essere selezionato dalla centrale per un altro evento quindi dobbiamo in un certo senso liberarlo dopo un po' quindi il terzo tipo di evento potrebbe essere crimine terminato sì in realtà l'agente è occupato già da qua no? perché quando la gente dal momento in cui la centrale lo sceglie lui è occupato quindi in questo qui diciamo che per il momento non non ci sono grosse cose da fare quello che potremmo fare magari per linearità è spostare questo punto se vogliamo forse suona meglio qui cioè quando arriva la gente al crimine vedo se sono passati più di 10 minuti di 15 minuti al suo arrivo se sì vuol dire che è mal gestito si può fare lì si può fare sopra direi che è indifferente al crimine terminato libero la gente altri eventi che mi vengono in mente direi di no quindi sulla base di questo vediamo un po' le strutture dati l'evento 2 e 3 potremmo metterli insieme sì direi di sì perché arriva la gente in realtà non sono proprio la stessa cosa se vogliamo controllare questo punto qui perché in realtà non sono nello stesso momento perché la gente arriva vedo se il crimine è mal gestito oppure no però poi questo avviene un'ora o due dopo quindi qui in realtà sì ci manca ancora questo quando la gente arriva definisco quanto durerà l'intervento e sulla base di questo creerò il crimine terminato l'unica cosa che possiamo fare è questo toglierlo del tutto cioè queste due cose potremmo già farle a priori nell'evento 1 perché io so quanto ci metterà ad arrivare lì so il tipo di crimine quindi posso stabilire lì quanto ci starà e quindi però fa lo stesso direi che per linearità è forse più bello averli tutti e tre strutture dati che ci servono allora quelle più facili da individuare sono quelle di output che dobbiamo poi stampare qui in questo caso ci chiedeva semplicemente il numero di eventi mal gestiti e sarà quindi banalmente un intero perfetto altre strutture dati facili da individuare sono i parametri qui abbiamo l'n il numero di di agenti ma anche la data allora io per semplicità modellerei tutto come interi qualcuno di voi mi ha chiesto giustamente come fare anche per riempire banalmente le tendine perché ovviamente certi mesi hanno x giorni altri non hanno dunque se non mi viene detto niente poi all'esame una domanda del genere potete benissimo farla io semplicemente adotterei la versione più facile inserisco i numeri da 1 a 12 per il mese i numeri da 1 a 31 per i giorni ok e poi supponiamo che l'utente scelga una data corretta ora se c'è specificatamente scritto controllare controllare che la data esista allora sì ma se non c'è scritto niente direi che va benissimo questa soluzione altri parametri niente altre strutture dati invece ce ne servono quando succede quando c'è un evento dovrò scegliere un agente no? ok agenti liberi e li salvo come? contate che non possiamo scegliere a caso ma dobbiamo scegliere il più vicino quindi non basta una banale lista dove ne prendo uno una mappa mi sembra già una buona idea una mappa di sì identificativo dell'agente in realtà forse non ci serve sapere esattamente chi è l'agente forse ci serve più sapere nel determinato distretto x quanti agenti liberi ci sono quindi questa sarebbe una mappa di distretto agenti numero agenti sono tutti e due interi per semplicità però visto che devo vedere prendere il più vicino devo sia sapere quanti ce ne sono liberi ma anche dove sono questi questi agenti e quindi secondo me è un modo veloce di farlo veloce non lo so vedremo perché non ho ancora provato a farlo ma e avere una mappa di distretti e numero di agenti liberi che può essere zero o più di o più di zero e allora ragioniamoci così qualitativamente poi domani scriviamo il codice come fa la centrale a selezionare l'agente più vicino al di là del primo passo in cui tutti saranno nella stessa posizione quindi avremo una mappa in cui sono i valori sono tutti a zero tranne che per un distretto e lì ne prendo uno decremento di uno il valore della mappa e basta in un caso intermedio dove potenzialmente gli agenti sono sparsi sul grafo io so che c'è un evento criminoso nel distretto Y bisogno di fare un disegno a di là degli archi che sono messi a caso ma supponiamo che l'evento sia qua ok e io ho 4 agenti qua 2 agenti qua e 1 agente qua ovviamente ne devo prendere uno di qua beh non è detto perché dobbiamo considerare anche le distanze qui potrebbe essere una distanza di 10 una distanza di 1 qui di 1 qui di 1 e 10 che agente prendo? sicuramente non questo perché c'è un percorso molto più veloce che va da qui a qui giusto? quindi non è che me la cavo molto facile cioè me la cavo facilmente se capisco cosa devo fare io so dove il il crimine e quindi come faccio a in poche parole un calcolo dei percorsi no? quindi direi che per ogni nodo in cui ci sono degli agenti liberi mi dovrei calcolare il cammino minimo da quel nodo al nodo in cui c'è il crimine mi calcolo il cammino minimo vedo quanto fa ad esempio il cammino minimo tra 2 no qua non ho identificativo tra B1 e B5 e 2 tra B3 e B5 e 10 eccetera me li prendo tutti e poi vado a vedere qual è il numero e decremento di 1 in questo caso gli agenti da B1 questo era un po' il l'idea quindi calcolo il cammino minimo tra tutti i vertici che hanno degli agenti liberi e il vertice in cui è avvenuto il crimine quindi ne seleziono 1 diminuisco la mappa creo un evento arriva agente in cui si stabilirà quanto durerà il il crimine e dopodiché libererò l'agente come faccio a liberare l'agente semplicemente mi ricorderò nell'evento avrò un parametro che mi dirà il distretto dell'evento e reincrementerò il valore legato a quel distretto prima di concludere c'è ancora un caso che in effetti non era specificato nel testo e me l'ha fatto notare un vostro compagno anche lì succedesse questo l'esame potete chiedere addirittura se non se nessuno lo chiedeva non lo contavamo neanche perché non l'abbiamo scritto nel testo potrebbe capitare non è detto che ci siano agenti liberi no? se tutti gli agenti sono occupati non posso selezionare un agente da mandare sul posto ora lì ci sono varie soluzioni o aspetto il primo agente che torna libero e poi lo mando caso complicato perché bisogna creare altri tipi di eventi semplicemente si potrebbe dire che se non ci sono agenti liberi è mal gestito e nessuno ci va e basta e le persone che sono li muoiono tutte questa era una simulazione già abbastanza complicata perché comunque richiedeva all'interno della simulazione di calcolare i cammini minimi ok? però questo è il classico caso in cui se nella vostra idea di soluzione fate vedere che avreste usato i cammini minimi il voto schizza su perché conta l'idea mancava ancora una cosa la vediamo poi domani addirittura c'era una query aggiuntiva da fare all'inizio di tutto per selezionare il nodo di partenza perché la centrale era nel distretto a meno criminalità quindi prima di tutto occorreva fare una query in più al database per determinare dove mettere la centrale di polizia va bene domande domani proviamo a risolverlo a farlo tutto e poi se finiamo prima magari lasciamo il tempo che rimane a eventuali domande eccetera grazie per l'attenzione buon pomeriggio